Allora, innanzitutto buongiorno, siamo qui col sindaco di Nicosia, Luigi Bonelli, per parlare delle annunciate di missioni del 31 marzo, non era uno scherzo da aprile perché poi stranamente si arrivò al 1 aprile, comunque sono state annunciate durante un consiglio comunale dopo una votazione che riguardava le aliquote del Limo, è stato presentato un emendamento, ma sarà lei ora a spiegarci meglio per quale motivo sono state annunciate e se domani, lunedì, 3 aprile verranno realmente presentate. Buongiorno a lei, dottore Leonardo, grazie sempre per la sua grande disponibilità e un saluto a tutti coloro che vedranno questa intervista, buona domenica. Non si è trattato di una bufala, anche se si sono sovrapposte le date, il consiglio è stato, si è celebrato il 31 e quindi poi la sua notizia è arrivata il 1 aprile e molta gente non riusciva a capire. Perché le ho preannunziate, però dicendo eventualmente che lunedì avrei preso una decisione? Perché purtroppo in consiglio comunale mi è accaduto un fatto che mai prima durante la mia amministrazione si era verificato e cioè che qualche consigliere disattenendo quella che era la linea della maggioranza, ma debbo dire in maniera ingenua, aveva proposto un emendamento. Questo emendamento avrebbe però fatto saltare tutta la preparazione del bilancio e soprattutto se fosse stato votato avrebbe fatto saltare quelle che sono le risposte in termini di servizi da parte della città. Se noi avessimo abbassato la liquida Imo anche dell'1 per 1000 sarebbe mancato il gettito per poter finanziare da parte dell'amministrazione servizi fondamentali, come quello della mensa, i trasporti per gli alunni e tante altre cose che da quando c'è la nostra amministrazione noi stiamo assicurando. Io voglio ricordare che non appena noi ci siamo insediati abbiamo trovato una città in ginocchio, non c'erano loculi per seppellire i morti, le strade erano una gruviera, non c'era la mensa per gli alunni, per cui i genitori dovevano provvedere privatamente, non c'era il trasporto degli alunni. Noi tutti questi servizi li abbiamo assicurati, ma ovviamente li possiamo assicurare se è un minimo di impegno da parte di tutta la città a pagare i tributi c'è, altrimenti io dovrei riscaldare la sedia e basta. Questa spaccatura, ti chiamavano così all'interno della maggioranza, è rientrata, avete chiarito con i consiglieri? Le dicevo prima, io mi ricordo di precedenti consigli comunali con altre amministrazioni, con l'amministrazione Valfitano, con l'amministrazione Catania e Financo, che in consiglio comunale ogni sera era una battaglia a cercare di convincere consiglieri comunali che votassero per la maggioranza. Con noi questo non si era mai verificato, anche perché sin dall'inizio c'è stata un'armonia, una grande unità di intenti attorno al sindaco, all'amministrazione e un'armonia tra gli stessi consiglieri comunali. Quell'episodio che si è verificato e per cui mi ha spinto a quella reazione è stato un episodio singolo. A me questi due giorni mi sono serviti per capire se ancora c'è armonia fra la mia maggioranza, se c'è unità di intenti e soprattutto se c'è da parte dei consiglieri comunali la disponibilità a supportare il nostro programma. In questi due giorni effettivamente ho ricevuto attestati da parte di tutta la maggioranza dei consiglieri comunali, ma anche debbo dire della città, che ringrazio, a continuare nell'azione amministrativa. Tutto il consiglio comunale, quantomeno i consiglieri di maggioranza, mi hanno manifestato in questi due giorni la grandissima disponibilità a continuare in maniera compatta. Ma io penso che questa, la compattezza, non serve a me per goderne e per manifestarla all'esterno, per dire ho una maggioranza compatta, serve alla città perché le sfide prossime e future, a cominciare dalla lotta per l'ospedale o a cominciare per le battaglie per la nord e sud, che sono in movimento, necessitano per forza non solo di una maggioranza consigliare compatta, ma di una città compatta, non ci possono essere sbavature. Le prossime sfide devono vedere tutta nicosia unita rispetto a battaglie che sono forti e che segneranno il confine fra un prima o dopo, fra una nicosia che era stata marginalizzata e la speranza di una nicosia che diventa nuovamente centrale. Per questo ho avuto quella reazione, perché non ci possiamo permettere sbavature, divisioni. La situazione di ieri sera si è accavallata con la notizia dell'ospedale, con la presentazione ufficiale della nuova rete ospedaliera che verrà presentata al Ministero della Salute e nel quale si è rilevato che l'ospedale di Nicosia è stato depotenziato in alcuni reparti, anche con posti letto in meno, come del resto anche gli ospedali di Leonforte e di Piazza Armerina, al contrario invece l'ospedale di Vienna è stato potenziato rispetto alla struttura iniziale. Qualcuno aveva pensato che queste dimissioni fossero legate anche alla situazione ospedale. Cosa ci dice in merito a questa situazione che si è venuta a creare? Anche per quello, perché mi sono sentito tradito nella mia figura istituzionale, ma non solo io mi sono sentito tradito, si sono sentiti traditi anche tutti gli altri sindaci del territorio che stanno facendo una battaglia comune assieme a noi per il mantenimento dei servizi che il nostro ospedale ha. Un tradimento che coinvolge anche settori larghi della città, a cominciare dal comitato pro ospedale, le istituzioni, l'assessore alla sanità assieme alla commissione alla sanità ci aveva promesso che quasi tutti i servizi Nicosia li avrebbe mantenuti e per un certo verso questo è vero, non solo Nicosia mantiene quasi tutti i servizi, mantiene la medicina, mantiene l'ortopedia, anzi l'ortopedia viene potenziata, mantiene l'ostetricia, mantiene il punto nascita, tant'è vero che ci sono pure in pianta organica nella rete ospedaliera due posti letto per neonatologia e la neonatologia c'è soltanto perché ci sarà il punto nascita, però ci depotenzia in alcuni settori, ci depotenzia e nella chirurgia dove verranno messi soltanto dei posti letto in dei ospedali e quindi non ci potranno essere interventi in urgenza. E poi la cardiologia, la cardiologia come reparto salta, anche se noi abbiamo ricevuto assicurazioni per cui la cardiologia sarebbe trasferita nei posti letto di medicina, quantomeno in una parte dei posti letto di medicina. E quindi ecco, poi ci sono stati ovviamente dei potenziamenti, ci saranno 20 posti letto di riabilitazione e a Nicosia non c'erano mai stati, ci saranno posti letto per la lungoteggenza e ci saranno posti letto per la geriatria. Da questo punto di vista Nicosia io dico grazie all'attenzione che abbiamo sempre mantenuto, non solo io ma tutto il territorio, assieme agli altri sindaci, assieme ai comitati pro ospedali, assieme a tutte le associazioni culturali e di volontariato che ci hanno sostenuto in questa battaglia, assieme anche alle notizie di stampa che è stata sempre attenta, siamo riusciti a non avere il danno che hanno avuto gran parte degli ospedali siciliani. Lei si immagini, parlava di Leonforte, Leonforte c'è di Sasso, la stessa piazza al Merino dove ci sono due onorevoli presenti di cui uno è membro del governo, viene depotenziato notevolmente e non ha gli stessi servizi che mantiene Nicosia. Termini Merese, una città di 60-70 mila abitanti che avrà meno servizi di Nicosia. Licata, che d'estate conta più di 200 mila abitanti, viene depotenziata completamente. Noi da questo punto di vista siamo stati fra virgolette fortunati, ma ovviamente non ci basta questo. Ovviamente per noi la chirurgia e la cardiologia sono servizi importanti perché abitiamo in una zona a rischio di pericolo, perché non è facile accedere, non è facile uscire e quindi questa battaglia la stiamo continuando ancora. Io ero profondamente avareggiato e domani a mezzo giorno, quindi lunedì, io sarò a Palermo perché incontrerò nuovamente l'assessore Gucciardi e assieme con me ci verrà il sindaco di Troina che mi ha dato la disponibilità, anzi si è proposto direttamente, Fabio Venezia ad accompagnarmi, il sindaco di Capizzi e ora chiederò anche agli altri sindaci che saranno disponibili come sempre ad accompagnarmi. Ci verranno elementi delle figure quali il dottore Mure, il dottore Casale suppongo del Comitato Proospedale, quindi la nostra battaglia continua. Noi non ci siamo mai fidati completamente, di cosa siamo stati sempre attenti, tant'è vero che nonostante le rassicurazioni che avevamo avuto dalla Sesta Commissione e dall'assessore, io i rapporti li ho intrattenuti con tutti, ho intrattenuto financo dei rapporti con, lo devo rinacciare, lo ringrazio pubblicamente con l'onorevole Cappello per esempio che fa parte del Movimento dei 5 Stelle e che ha all'interno della maggioranza, con l'onorevole che ringrazio anche qui, con l'onorevole il sindaco di Torrenova, Bernadette Agrasso, in continuazione con lo stesso Presidente della Commissione, voglio dire che l'attenzione non è mai caduta, siamo stati sempre attenti vigili e non lo saremo tuttora e se quello che ci risponderà l'assessore non ci convincerà, siamo pronti a continuare la battaglia, financo ad atti estremi, in un quadro, voglio dire comunque, problematico per tutta la sanità non solo siciliana ma italiana, in un quadro in cui tutti gli ospedali sono depotenziati, declassati, qualcuno addirittura pericolo di chiusura e Nicosia tutto sommato regge e regge alla grande, ma questo non ci basta. Quindi è scongiurato il pericolo domani delle eventuali dimissioni che aveva preannunciato? Sì, voglio dire che non è stato solo un atto di ingenuità o di stanchezza quello di preannunziare la dimissione, ma è stato anche un atto forte per fare riflettere un pochettino tutti, io penso che sia servito perché tutti i consiglieri, ripeto tutti i consiglieri di maggioranza mi hanno manifestato grande solidarietà, grande senso di responsabilità e grandi progetti per il futuro, quindi sono abbastanza fiducioso, questo è un buon segno suppongo anche non solo per me, non solo per la mia amministrazione, ma è un buon segno penso per tutta la città, quindi maggioranza compatta, ma io invito i cittadini, li invito tutti con il cuore in mano a essere compatta tutta la città, perché il futuro praticamente sarà importante, sarà proprio dirimente per la città di Nicosia. Dottore, grazie ancora a lei sempre per questa squisita disponibilità e un caro saluto a tutti i miei concittadini. Grazie, buon lavoro. Grazie.